E BOOM! Ciao ragazzi, come state? Io sono Axel, oggi sono qui a presentarvi No, innanzitutto vi dico subito, fatemi sapere se questo saluto vi piace del più E... Ciao ragazzi! Io sono Axel, cose simili, come state? Quindi fatemi sapere se preferite questo o quello di due video fa Questa non è un'unica bassale perché c'è comunque una botta di violenza nel saluto Comunque, oggi vanno alle ciance, sono qui a presentarvi, come potete ben vedere dal titolo Il mio primo Wager Match Allora, innanzitutto ci tengo a dire due cose La prima è che se vi interessano comprare, o meglio, se volete comprare i crediti di FIFA Mi raccomando, passate da onefifa.com, il link lo troverete in descrizione Prendere i crediti è facilissimo, selezionate appunto la quantità Poi inserirete i dati della vostra carta di credito, o meglio no Prima dovrete mettere dei dati personali che però potete anche mettere a casa volendo E poi i dati da caricato e poi vi chiederà un discount code, voi mettete Axel Poi schiacciate ok e vi arriveranno i crediti Secondariamente vi volevo dire una piccola cosa Se siete in cappuccio è perché a voi voglio stare in cappuccio Dopo magari me lo tollerò, però tra un video ogni 400 in cappuccio posso farlo Poi, infine, questa qua è la squadra che andrò ad utilizzare oggi Allora io avevo 20.000 crediti, no 30.000, 29.000 crediti Questo qua è un wager messo di 10.000 perché è così poco Perché non ho crediti, infatti questa qua è la squadra che mi sono fatto Non l'ho mai utilizzata, come vedete tutti i giocatori non sono mai stati utilizzati Quindi l'andrò a provare con voi per la prima volta E anche un modulo nuovo, infatti il 3-5-2 su questo FIFA non l'ho mai utilizzato Comunque detto questo non ho altro da dire Io andrei ad invitare subito il mio sfilante Che non mi ricordo come si chiama, ma lo vedremo tranquissimo E dopo 8 minuti e 12 secondi Siamo riusciti ad invitarlo E direi di aspettarlo un attimo Comunque non so se l'ho già detto Lui si chiama SassiKing1998 Oh, perché non viene? Dai, no, non voglio riaccendere il Kine Yes, forse se l'abbiamo fatta Cos'è, cos'è? Dai, dai, dai Questa è la sua squadra Wager contro Halamad Ma no, ho il profilo delle magliette Una più legale dell'altra Comunque 100 di intesa 84 di valutazione 4-3-3 Liga E Casillas, Sergio Ramos, Pepe Ragazzi, come un attimo l'occasione per dirvi Che dato che sapete che a me non piace fare i soliti video I video mainstream che ormai fanno tutti Stavo, volevo registrarvi oggi un video con la GoPro Nella quale No, dai, non vi spavo niente Non vi preannuncio niente Volevo registrare un video con la GoPro Ma dato che devo studiare E sono già fatte le 4 e mezza Meglio farlo un altro giorno Quindi, detto questo Io direi di partire Anzi no, dovrei prendere palla Perché volevo un attimo sistemare le impostazioni Poi ragazzi, dovete sapere che nei primi 5 minuti Il 4-3-5-2 Il 4-3-5-2 Il 3-5-2 non mi ha piazzato Non mi ha passato per niente Intanto Dubbia coltare il luone Sembrava gol Subito di violenza Palla per il dubbia Che ci arriva di testa Ma Gervinio è scarsissimo Signori, la bestia Gervinio Oddio, è scarsissimo E l'ha tirata in pancia Madonna, forse, è rinunerazzi No, vabbè, dai Ragazzi, fa schifo sta squadra Maledetti che non l'ho provata Anche adesso Era prendibilissimo sto tiro Dai, bella palla Non è vero Dai, dai Con calma Keep calm, keep calm Keep calm Bravi, bravi Bella Bellissima azione E c'è già l'1-1 Quante volte sta squadra Al ventinovesimo Capoe 1-1 Bravo Bella Bella palla per Dubbia Che lo vede Madonna Stava a fare il golasso Guardate Neanche se la fa dar bene No Orca miseria P***a 2-1 Bisogna cambiare Bisogna cambiare Non mi piace assolutamente Via Modulo Inoranza Via Dai Salvino Bravo 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 Dai come se ne va giù Dai come se ne va giù Dai Dai Dubbia Bravi 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 Così E c'è il gol 2-2 E' il 53esimo Così vi voglio Così vi voglio Mamma mia Dai L'hai visto L'hai visto L'hai visto Cabella Bella Bellissima Ma che gore Ma che gore Al 56esimo Ci si porta in vantaggio Bellissima azione Yes Bellissima Bellissima Porca miseria Porca miseria Due palle Fammi esultare Almeno Da E suona il tele Oh Porca puttana Ogni video Ogni video Bravo Bravi Stanno 1 Avanza Dai E' il secondo Il servizio 4-3 65esimo Finalmente Che Cioè Ogni Ognuno Ognuno Dice Borde Adesso Non prenderò io Borde Io lo farò Finalmente Che due Palle No E' finita in parità Vedete E ragazzi Abbiamo il desigio Di fare Golden goal Quindi Golden goal Chi segna primo Vince 10.000 crediti Mi sembra una bella cosa Perché magari Può esserci il miracolo Di Musa Che avanza No ecco Non c'è stato Però No E' messa laterale Mannaggia Ma che cos'è Non prenderò questa goal No 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 Vabbè Eh va Finalmente Go Ave Maria Grazie Grazie